Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. La settimana che attende i fan di Un Posto al Sole promette di essere ricca di emozioni e tensione. Ecco un dettagliato resoconto delle trame principali delle puntate in onda dal lunedì 22 al venerdì 26 maggio 2023. Giulia si trova determinata ad affrontare Savbiese, convinta che sia stato lui a picchiare Imma. Tuttavia, la sua audacia mette a repentaglio la sua stessa sicurezza. Nel frattempo, Rosa continua a ricevere pressioni da parte di Franco e Angela riguardo a Eduardo. La situazione rischia di sfuggire completamente al controllo, creando una crescente tensione. Lara si trova sempre più in difficoltà a causa di Ida, la vera madre di Tommaso. Quest'ultima minaccia di distruggere i piani di riavvicinamento di Lara con Ferri. Nonostante creda di essersi liberata da questa presenza invadente, Lara scoprirà che Ida è pronta a tutto pur di riprendersi suo figlio. Speranza finisce in una trappola tessuta da Michaela, un inganno che danneggia profondamente l'autostima di Samuel. Il giovane è deluso dal fatto che la sua fidanzata non dia il giusto valore al suo talento musicale. Questo evento metterà a dura prova la loro relazione. Nel frattempo, Nico si trova costretto a gestire una nuova e spiacevole situazione con Alberto, causata dalle gemelle Cirillo. Questo imprevisto costringerà Nico ad affrontare delle sfide inaspettate. Luca sta preparando il suo ritorno a Napoli per assumere il ruolo di primario al San Filippo, ma si troverà ad affrontare diversi imprevisti che metteranno alla prova la sua determinazione. Infine, Guido e Mariella si apprestano ad andare in crociera, ma sono preoccupati che Bice e Massaro possano rovinare la loro vacanza. Questo timore li accompagnerà durante tutto il viaggio, creando un'atmosfera di suspense. Sarà una settimana avvincente e piena di colpi di scena per i personaggi di Un posto al sole, dove le emozioni e i conflitti si intrecceranno creando una trama avvincente per i telespettatori. Iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i futuri contenuti.